Se una persona venisse a sapere di un atto quale lei subì ormai tanti decenni fa da parte di un sacerdote, cosa dovrebbe fare all'interno della Chiesa? Secondo me essere molto severi, perché chi ha queste tendenze ha problemi psichiatrici, sono pulsioni che non riescono a reggere. Quindi andrebbe allontanato, aiutato, guardato a vista, accompagnato, perché sono problemi di una grande difficoltà, ripeto, anche psichiatrica. Grazie, grazie Monsignor Albanesi, grazie anche della sua testimonianza questa sera da noi. Grazie direttore. Ciao Don Vinicio. Grazie a voi, grazie. Ciao Don Vinicio. Grazie a voi, grazie a voi.